Acqua contenente materiali radioattivi è fuoriuscita da un sistema di depurazione dell'acqua contaminata presso la centrale nucleare di Fukushima Daiichi. Durante la pulizia dei tubi del sistema di purificazione dell'acqua contaminata è probabile che un operaio possa aver dimenticato di chiudere una valvola manuale, causando così la perdita di una miscela di acqua contaminata e acqua di pulizia. La TEPCO stima che la quantità di acqua fuoriuscita sia di circa 5,5 tonnellate e che contenesse circa 22 miliardi di becquerel di sostanze radioattive che emettono raggi gamma, come il CESO-137, superando quindi lo standard nazionale di 100 milioni di becquerel. Nel momento in cui si è scoperto il problema, il valore dato dalle strumentazioni che monitorano la concentrazione di materiali radioattivi nell'atmosfera è leggermente aumentato per un breve periodo, ma dopo poche ore era già al suo valore originale e non sono state riscontrate variazioni significative nei valori misurati presso altri punti di monitoraggio o nei vicini canali di drenaggio. La TEPCO ha già iniziato a raccogliere il terreno bagnato da queste acque. L'autorità di regolamentazione del nucleare giapponese ha ordinato la TEPCO di recuperare quanta più acqua possibile, compresa quella penetrata già nel suolo, e di rafforzare il monitoraggio dei canali di drenaggio nelle vicinanze al fine di prevenire la diffusione della contaminazione. La prefettura di Fukushima ha ovviamente presentato un reclamo alla TEPCO definendo l'incidente estremamente deplorevole e chiedendo indagini approfondite e analisi sia delle attrezzature che della gestione in sé. Il direttore della TEPCO, Taminami, ha dichiarato «Prendiamo questo incidente molto sul serio, analizzeremo attentamente la causa e preverremo il ripetersi e faremo del nostro meglio per evitare che qualcosa del genere accada di nuovo». Intanto il portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese non ha perso tempo nello stigmatizzare l'evento che, dichiara, ha dimostrato ancora una volta che il Giappone ha problemi cronici, inclusa una gestione interna caotica e disorganizzata. Ciò ha ancora una volta evidenziato la necessità e l'importanza di istituire un sistema di monitoraggio internazionale efficace a lungo termine. Ma è del mestiere questo. Caro portavoce, il monitoraggio internazionale c'è e la Cina ne fa parte ormai da ottobre dell'anno scorso. Sei informe! Comunque sia, nei prossimi giorni sapremo i dati dei rilievi, sperando che il danno sia circoscritto al terreno che la Tepco sta già smaltendo.